Il bilancio diciamo che in questo momento è positivo, nel senso che abbiamo iniziato il girone di andata e abbiamo iniziato il campionato abbastanza male, nel senso che era una squadra tutta nuova, quindi bisognava trovare l'assetto e l'armonia in campo. Nel girone di ritorno abbiamo perso due partite contro la prima e la seconda in classifica, tutte le altre le abbiamo vinte, quindi direi che è un buon girone di ritorno. In questo momento siamo salve, abbiamo ancora sette partite e dobbiamo ancora fare tanti punti per l'obiettivo che è la salvezza. Comunque è positivo. Tanti infortuni che però non hanno scalfito il cammino di questa squadra. Sì, purtroppo abbiamo avuto tanti infortuni, a partire proprio da ancora l'inizio del campionato, quindi non abbiamo mai iniziato a essere tutta la squadra al completo. Sono solo tre settimane che siamo tutte al completo e quindi quello è positivo adesso, quindi siamo pronte per affrontare le ultime partite tutte e quindici perché noi siamo in quindici. Siamo qua in questa giornata dedicata ai giovani, due parole per loro. Sì, allora io arrivo da una realtà che è molto più grande di quella della Liguria, però questa società qua sta facendo molto dal punto di vista giovanile e per quanto riguarda le ragazze. Quindi c'è un buon settore giovanile, questa giornata è dedicata a loro e speriamo che ci siano sempre più bambine e ragazzine che si affacciano al mondo della pallavolo perché comunque è un mondo bello e un mondo che fa bene.